Incidente ferroviario muore pensionato di Valle Lunga, scommesse e confiscati beni per 500.000 euro a un imprenditore agrigentino, omicidio failla, la procura nissena chiede 4 condanne all'ergastolo, telefonate dopo la denuncia per maltrattamenti, 60enne in carcere, abusivismo commerciale, 11 sanzioni a Caltanissetta, tensioni tra vicini di casa, scatta una denuncia. Bentrovati, partiamo da una notizia che riguarda un incidente ferroviario morto un pensionato di Valle Lunga, il servizio. Un pensionato di Valle Lunga in provincia di Caltanissetta è morto in un incidente ferroviario sulla linea che collega Palermo al comune Nisseno, nelle vicinanze di Valle Dolmo. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer, che hanno tempestivamente iniziato le indagini per cercare di fare luce sulla drammatica vicenda. Inoltre è arrivato anche il medico legale per decidere se disporre l'autopsia sul cadavere dell'84enne. Scommesse, confiscati, beni per 500 mila euro a un imprenditore agrigentino. Confiscati beni dal valore di 500 mila euro ad un imprenditore agrigentino per esercizio abusivo di gioco e scommesse e truffa aggravata. Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, su disposizione del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Palermo, è il risultato dell'attività investigativa condotta dalla DIA, che analizzando la carriera imprenditoriale del soggetto ne ha messo in luce la pericolosità sociale. Secondo gli inquirenti, l'attività illecita dell'imprenditore sarebbe stata attuata al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno dello Stato, sfruttando società estere per indirizzare proventi delittuosi dei flussi finanziari generati. Il decreto di confisca riguarda quote di partecipazione in società anche estere esercenti l'attività di raccolta di scommesse, due auto di lusso, diverse polizze assicurative, conti correnti, depositi a risparmio. La pericolosità sociale dell'imprenditore, inoltre, ha reso necessaria l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni. Sono i militari della Capitaneria di Porto di Gela che continuano nell'attività di ricognizione degli abusi demaniali nell'ambito della propria giurisdizione. Parliamo dei comuni costieri di Gela e Butera. Così dopo un controllo nel comune di Butera, nella località di Susino, è stata accertata l'occupazione abusiva di una vasta area demaniale maritma, mille metri quadri ed è stata sottoposta a sequestro preventivo. Accertato il mantenimento di strutture fatiscenti e vetuste precedentemente destinate a stabilimento balneare, prive di qualsiasi titolo concessorio in corso di validità, sottraendo parte del litorale alla pubblica fruizione, deturpando la fascia soggetta a tutela paesaggistica dei 300 metri dalla linea di battiglia. Si legge così nella nota diffusa a mezzo stampa. Il presunto responsabile è stato segnalato alla locale procura della Repubblica. Adesso parliamo dell'omicidio Failla. Si tratta di un omicidio che risale al 1989. La procura nissena ha chiesto quattro condanne all'ergastolo il servizio. La procura nissena ha chiesto quattro condanne all'ergastolo nei confronti degli imputati per l'omicidio del gelese Giuseppe Failla, ucciso a colpi di pistola il 9 ottobre 1989. I quattro imputati in corte d'assise per cui è stato sollecitato il carcere a vita sono il boss Giuseppe P. Dumadonia, di 76 anni, il sancataldese Cataldo Terminio, di 66 anni, il nisseno Angelo Palermo, 65 anni, e il gelese Angelo Bruno Greco, 54 anni. Giuseppe Failla aveva 51 anni quando fu ucciso a colpi di pistola. Era la mattina del 9 ottobre 1989. La vittima si trovava nel suo bar in via Cadorna, a Gela. Il delitto, secondo la ricostruzione della procura, si inserirebbe nella faida tra Cosa Nostra e Stigia che insaguinò il territorio della provincia nissena negli anni 80 e Cataldo Terminio avrebbe ritenuto Failla, considerato affiliato a un clan rivale, responsabile dell'omicidio del padre Niccolò Terminio e voleva vendicarlo. Una volta ottenuto, sempre secondo l'accusa, l'ok di Madonia, Terminio avrebbe chiesto aiuto a Greco, il quale avrebbe sparato i colpi contro la vittima, mentre Angelo Palermo avrebbe fatto da autista. Il corpo di Failla venne trovato da alcuni clienti del bar. Aggravata la misura cautelare per un sessantenne. Aveva continuato ad effettuare telefonate dopo la denuncia per maltrattamenti. Ora l'uomo si trova in carcere. Aggravamento della misura cautelare per un uomo di Serra di Falco di 66 anni, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Caltanissetta Santi Bologna ha disposto la custodia cautelare in carcere. Maltrattamenti in famiglia l'accusa che gli viene attualmente contestata e che nel recente periodo gli era costata l'applicazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, la quale aveva presentato una querela. Ma dall'inizio di ottobre ad oggi, secondo quanto emerso dalle carte dell'inchiesta, l'indagato non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dal giudice, tanto da contattare ripetutamente la persona offesa via telefono. La quale è stata anche costretta a bloccare il numero dell'ex marito. Nonostante ciò, l'uomo ha provato a contattare la figlia in maniera insistente, tanto che anche quest'ultima è stata costretta a bloccarlo. E non contento, l'indagato si è rivolto pure alla nuora per cercare di contattare la ex moglie. Per il GIP Bologna c'è anche il rischio di inquinamento delle prove. L'indagine per maltrattamenti infatti non è ancora chiusa e il Serra di Falchese ha anche cercato più volte di convincere la ex moglie a ritirare la querela, minacciando pure di suicidarsi in caso di rifiuto della propria richiesta. Parliamo adesso di abusivismo commerciale. Sono 11 le sanzioni a Caltanissetta. Sequestrata merce di dubbia provenienza. Ancora controlli delle forze dell'ordine per prevenire l'abusivismo commerciale. In totale sono state elevate 11 sanzioni per mancanza di licenza, omessa installazione di misuratore fiscale, occupazione abusiva del suolo pubblico e mancata revisione dei mezzi. Provvedimento a cui si sono aggiunti anche alcuni sequestri di merce di provenienza dubbia. I controlli sono stati eseguiti congiuntamente da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale tra Caltanissetta e Niscemi, in modo da avere una panoramica su chi esercita regolarmente il commercio ambulante. Nel dettaglio quattro ambulanti sono stati sanzionati per mancanza di licenza, due per assenza di registri di casse e quindi assenza di misuratore fiscale, altri due per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e altri tre per la mancata revisione dei mezzi. A Caltanissetta è stata inoltre sequestrata merce di dubbia provenienza. I controlli sono stati disposti dalla prefettura durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'8 settembre scorso. L'obiettivo è quello di tutelare la regolare vendita ambulante, visto che ci sono anche tanti commercianti che rispettano le regole. Già nelle scorse settimane erano stati eseguiti altri controlli che avevano portato al sequestro di 60 cassette di frutta e verdura. Ci spostiamo adesso a Canicattì, dove per tensioni tra vicini di casa è scattata una denuncia. Le tensioni tra due vicini di casa canicattinesi sono sfoggiati nella denuncia per minacce presentata da uno dei due contendenti. Una vicenda che affonda le proprie radici nel tempo, visto che tra i due canicattinesi i rapporti sono sempre stati piuttosto tesi, nel dettaglio per questioni condominali e pagamenti di utenze. Tensioni che hanno raggiunto il loro apice nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruito fin qui dai poliziotti del commissariato di Canicattì. I due protagonisti in negativo della vicenda hanno affrontato l'ennesima discussione dai toni piuttosto accesi, finché uno dei due ha minacciato di morte l'altro, che si occupa anche della contabilità condominiale. O almeno questo è ciò che emerge dalla denuncia che quest'ultimo ha presentato in commissariato. Stavolta al centro della lite la questione legata alla pulitura del piazzale condominiale. Ed ecco che sempre secondo la ricostruzione investigativa era nata la nuova diatriba, fino a quando l'indagato avrebbe detto di non avere più intenzione di pagare il condominio e che avrebbe sparato in bocca all'altro residente. Scena alla quale, a quanto sembra, hanno assistito anche altri condomini. Torniamo a Caltanissetta. È il Consiglio Comunale sul debito Ato a cui hanno presenziato anche gli ex sindaci Messana e Ruvolo. Dopo un'ora di ritardo per mancanza del numero legale dei consiglieri presenti in aula, 12 poi diventati 16, si è tenuto ieri sera il Consiglio Comunale monotematico per affrontare la questione del debito Ato, che il Comune ha deciso di pagare due anni fa chiedendo un'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti per saldare il debito di 10 milioni di euro da restituire in 30 anni. Il sindaco Gambino ha dichiarato che oltre il nostro Comune anche altri Comuni hanno fatto lo stesso, dopo aver seguito un lungo percorso sulla base di quattro ordinanze emesse dal Tribunale di Caltanissetta. Sulla stessa linea d'onda l'assessore al bilancio Luciana Camizzi, dopo un lungo discorso accompagnato dalle slide per spiegare i presenti in aula consigliare. Dopo si sono susseguiti i due ex sindaci Salvatore Messana e Giovanni Ruvolo, mentre i due cittadini prenotati per esprimere il loro punto di vista si sono soffermati sugli accantonamenti fatti a partire dal 2010. Dopo la parola è passata ai consiglieri comunali che con il passare del tempo si è deciso di rimandare tutto di 24 ore perché è venuto a mancare il numero legale per continuare il consiglio comunale. Ancora debitoato al consiglio comunale aperto hanno partecipato anche cittadini nell'ultima seduta. A Palazzo del Carmine anche la voce di liberi cittadini è stata ascoltata sull'argomento del debitoato proprio con un consiglio comunale aperto che aveva come obiettivo il fare chiarezza sul pagamento dei 10 milioni di euro. Sono stati alcuni cittadini a fare un chiaro appello alla politica chiedendo a tutti i rappresentanti indistintamente dai colori politici di essere più attenti ai problemi della città. C'è noi cittadini per anni e anni e anni abbiamo battuto prima col dottore Ruvolo e adesso col dottore Ruvolo per avere chiarezza. Dieci anni, lasciamo perdere i primi due o tre anche del dottore Ruvolo. Cinque o sei anni che chiediamo chiarezza. Non me ne vogliono i consiglieri comunali, ma questa battaglia in città l'hanno fatta i cittadini. La politica, diciamo così in generale tutta, è sorda. Parliamo di sanità, parliamo di università, i cittadini lamentano o si sentono dire state tranquilli come nel caso dei soldi e veniamo peraltro accusati di essere persecutori. No signori, noi cittadini vi abbiamo eletto per avere risposte. Quando noi poniamo delle questioni, cortesemente cercate di darci risposte. Il vostro incarico è questo. Domande ed osservazioni sulle vicende che hanno visto al centro l'assolvimento del debito e la scelta intrapresa dall'attuale amministrazione di assolvere al pagamento, domande mirate sulla due diligence, sull'anticipazione di liquidità, sui tassi di interesse e anche sulla destinazione degli accantonamenti del Fondo Rischi e Contenziosi. Io sono qui in veste libero cittadino e in seguito al confronto con altri cittadini. Perché mi sono interessato a questa vicenda? Dopo l'uscita della relazione della corte dei conti che io ho letto e ho trovato molto interessante. Per cui mi sono posto le domande. Siccome comunque mi pare che il debito sia stato chiuso con questa velocità perché si volevano evitare spese legali perché è stato più volte menzionato, che ammontavano cifre anche so se volevo capire se questa fretta non potevamo fare un passo anche più azzardato, anziché pagare 12 milioni senza con le spese legali, potevamo anche vincere la causa, magari non pagare nulla. Siccome ho visto anche che il libero consorzio di Caltanissette comunque ha già, come dire, rescisso al contratto e quindi non paga più la liquidazione, volevo capire quando noi smetteremo anche di pagare questi 140 mila euro annui dal momento che il 51% di quote, quindi gli altri comuni hanno impugnato le delibere e quindi non sappiamo quando sostanzialmente potremo liberarci di questo fardello annuale. Più città, movimento civico, fa le sue valutazioni dopo il voto. A parlare Marina Castiglione. La risposta di più città risultato post elezioni del 25 settembre scorso guarda la concretezza e una strategia strutturata intorno alla quale il civismo diventa centrale. L'obiettivo sarà quindi tornare a parlare con le persone e tra le persone anche attraverso l'istituzione di osservatori sociali dei diritti di cittadinanza delle minoranze per trattare temi che determinano il presente e il futuro dei cittadini come il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla genitorialità, alla cultura, alla cura dell'ambiente, alla parità di genere e alla pace. Speriamo di poter costruire anche con partiti politici o con chi si riconosce comunque in forze progressiste e democratiche degli osservatori. Questi osservatori dovrebbero avere a nostro avviso almeno due funzioni. Una funzione che è quella proprio dello studio, cioè analizzare quali sono gli elementi di maggiore fragilità, debolezza e disuguaglianza all'interno della nostra città e dopodiché coinvolgere gli stessi cittadini non soltanto in forma associata ma anche in forma libera e singola in un percorso di risoluzioni possibili. Questo secondo noi è l'elemento che il civismo ha in più rispetto al partito. Muovendosi in maniera informale esso può contattare e in qualche modo non mettere un cappello di nessun genere, neanche di tipo ideologico, sulle idee e sui valori anche delle persone. Ovviamente noi ci muoviamo all'interno di un'area democratica che pensa soprattutto allo sviluppo dell'autonomia del cittadino e quindi della sua libera opinione. Uno sguardo fiducioso che vede risposte nelle buone prassi e nello studio dei bisogni reali del territorio. Parliamo ora di San Cataldo, la processione del Santissimo Crocifisso, una massiccia partecipazione di fedeli lungo le strade del Centro Storico. San Cataldo ha ricevuto la benedizione da parte dell'arciprete Don Alessandro Giambra al termine della processione del Santissimo Crocifisso portato a spalla dai devoti portatori. Un percorso seguito da numerosi fedeli lungo le strade del Centro Storico Cittadino dopo la celebrazione della Santa Messa Solenne. Il Santissimo Crocifisso, domenica 9 ottobre, ha attraversato via Cavour, Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza San Giuseppe, per poi rientrare in Chiesa Madre, soffermandosi per qualche minuto nel piazzale per la benedizione, ad accompagnare la processione il clero, le autorità civili e militari, le diverse confraternite della città e ancora le note suonate dalla banda musicale. Giorni di festa per San Cataldo che terminano anche con la fine della fiera. Quella di ieri è stata l'ultima sera e il pomeriggio è stato dedicato alle associazioni che si occupano di persone con disabilità e alle comunità alloggio, per loro la possibilità di usufruire gratuitamente delle giostre. Questa è una fiera di e per tutti, ci teniamo particolarmente a questo pomeriggio di inclusione, abbiamo detto, anche questa è la fiera dell'inclusività. Vogliamo per questo ringraziare gli esercenti degli spettacoli viaggianti che davvero ci hanno dato la loro piena disponibilità e insieme a noi hanno voluto fortemente questo pomeriggio di condivisione e di collaborazione, come senso proprio di unione perché da soli non si va da nessuna parte, mentre insieme davvero si raggiungono questi risultati così importanti che certamente ci gratificano. Non potevamo finire questa fiera in maniera diversa, una fiera che sin dall'inizio è voluta essere una fiera per tutti, per le famiglie, per tutta la città e volevamo oggi dedicare un po' di tempo alle associazioni, alle case famiglie in maniera tale che la fiera e le giostre in particolare fossero a loro completa disposizione. Il bilancio è assolutamente positivo, in quattro giorni di fiera abbiamo avuto veramente tanta 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 gente, la città ha risposto in maniera entusiasta alla fiera, c'è stato molto, davvero molta partecipazione, giostrai, i venditori ambulanti, tutti sono rimasti soddisfatti del sito che quest'anno è stato scelto e siamo pronti a ripeterlo e ripeterci anche il prossimo anno ovviamente con tanti miglioramenti. È lutto tra i volontari della protezione civile, è morto Luciano Pilato. Lunedì Luciano Pilato, volontario del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Calogero Zucchetto di Caltanissetta è venuto a mancare. 71 anni, entro 14 anni fa nel gruppo di volontari era il 2008 e da allora si è dedicato al volontariato. Tutti i componenti dell'Associazione lo ricordano come una persona capace, sempre presente e pronta nelle attività. In questo momento di dolore sono propri volontari a stringersi attorno ai familiari. I funerali oggi alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Caltanissetta. Parliamo adesso di calcio. È la Nissa che si ferma agli ottavi di finale di Coppa Italia nella categoria eccellenza. Pesante sconfitta dei biancoscudati ad opera dell'Acracass 5 a 2 nella gara di ritorno all'esseneto di Agrigento. I padroni di casa hanno sciupato anche un calcio di rigore nei minuti iniziali della partita con Mansur. Primo gol dell'Acracass all'undicesimo minuto con Pavisic, poi momentaneo pari di Azzara al quarantasesimo minuto. Nella ripresa al sessantaquattresimo l'Acracass nuovamente in vantaggio con Semenzin e al settantunesimo la terza rete bianco-azzurra con Pavisic, autore di una doppietta. Al settantacinquesimo gol nisseno di Ortiz, ma nel finale l'Acracass è dilagata con Mansur all'ottantacinquesimo minuto e Garufo pochi minuti dopo. Sarà dunque l'Acracass ad accedere ai quarti di finale. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà il passaggio di una perturbazione sulle nostre regioni meridionali. Lo vediamo da queste nostre mappe. Le macchie azzurre e anche viola rappresentano precipitazioni in transito. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità. Ecco il sistema nuvoloso con la nuvolosità in realtà più compatta nel sud Italia il resto è stata più che altro di nubi sfrangiate e spesso delle velature e questo sistema nuvoloso in transito sull'Europa centrale lambisce un po' al nord Italia ma senza grandi conseguenze. Verifichiamo le precipitazioni previste da noi con appunto piogge acquazzoni soprattutto nel sud Italia specie nelle regioni peninsulari in allontanamento. Poi a fine giornata però per il sud sta una giornata molto variabile e instabile qualche locale piovasco anche sull'arco alpino. Quindi in definitiva ci attendo un giovedì di maltempo al sud lì con pioggia acquazzoni diciamo forse anche qualche temporale però poi piogge che si allontanano nella seconda parte del giorno a partire dal versante tirrenico. Nel resto Italia tempo tutto sommato discreto un po' di variabilità lungo la dorsale appenniniche sulle alpi con qualche piovasco in giornata ma precipitazioni non particolarmente intensi e insistenti. Le ampie zone di sereno nel resto dei paesi favoriscono anche il clima mite, temperature infatti fino anche a 25-26 gradi. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Vizzini, Viale Trieste, Servizio Notturno. Romano, Corso Vittorio Emanuele